musica 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 benvenuti in questo video unboxing di una bottiglia d'acqua naturale il packaging com'è abbiamo il logo di una montagna il contenuto dei minerali bene allora scopriamo che cosa contiene questa bottiglia musica 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 abbiamo subito incendi perdite presto uno da teletrasportare in sala macchine musica 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 video unboxing terminato mettete mi piace commentate e ci vediamo nel mio prossimo video iscriviti iscriviti ora se non l'hai già fatto subscribe subscribe now ciao 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 musica musica